buongiorno a tutti oggi è una giornata di lavoro perché purtroppo ecco si stanno ultimando le liste però siamo a buon punto vi voglio tenere sempre aggiornati su quello che stiamo facendo il nostro il nostro gruppo la nostra coalizione che poi si presenta in una sigla unica che si chiamerà uniti per la costituzione è da ieri convocata per diciamo la strutturazione delle liste allora vi spiego subito i passaggi innanzitutto non ci presentiamo in coalizione ma ci presentiamo in un unico contenitore che sarà appunto questo uniti per la costituzione ciascuno di noi cioè vale a dire ancora italia partito comunista azione civile è rinascita per l'italia a abbiamo rinunciato alle nostre sigle al nostro simbolo proprio per convergere in un unico contenitore che ci consenta di presentarsi di presentarci appunto con una soglia usufruendo di una soglia di sbarramento del 3 per cento anziché del 10 perché altrimenti se ci fossimo presentati in coalizione mantenendo i nomi dei nostri delle 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 nostre formazioni politiche originarie avremmo dovuto rinunciare praticamente alla soglia di sbarramento al 3 per diciamo dover sostenere una soglia di sbarramento al 10 per cento e i nostri coordinatori regionali e provinciali di ancora italia che poi quella che sosterrà il peso di questa organizzazione capillare sul territorio proprio perché più strutturata rispetto alle altre forze politiche è più diffusa appunto sono stati già allertati e quindi sono già pronti per per avviare la raccolta firme che potrà avvenire solo a liste compilate perché ciascun modulo che verrà fatto sottoscrivere sui territori dovrà presentare diciamo in calce la lista o meglio in cima la lista dei candidati che si presentano in quel collegio potranno votare chiaramente bisognerà raccogliere un 750 firme per ogni per ogni collegio sia per la camera che per il senato per cui siccome i collegi molto spesso non coincidono non sarà un'operazione facilissima perché sono perimetrati diversamente perché comunque nella camera a un circa il doppio dei collegi appunto del senato che sarà costituito solo da 200 membri mentre la camera da 400 quindi io come sapete sono una persona molto concreta non non sono una che cioè sono una che pensa però anche voglio dire non solo pensa in astratto ma anche pensa in concreto perché sostanzialmente senza la mano operativa non si possono raggiungere in ogni caso i risultati quindi in questa fase storica chiaramente noi abbiamo chiesto prima l'unità a tutti quindi insomma a chiunque si volesse si volesse diciamo accostare a noi dopodiché chiaramente adesso le i giochi sono sono si può dire fatti perché lì abbiamo tempo per la raccolta delle firme solo entro il 14 di agosto perché poi chiaramente le firme vanno anche certificate non solo autenticate vanno cioè mandate bisognerà raccogliere appunto i certificati elettorali di tutte queste persone e questo lo dovranno fare i comuni oppure praticamente anche le corti d'appello insomma c'è un lavoro da fare considerevole veramente considerevole quello che si sta facendo appunto si sta facendo nell'interesse chiaramente di tutti e chi ci sono già dei soggetti che si iniziano a invocare la stenzione perché dopo aver fatto iniziative del tipo uniamoci 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 come se chi non ha una struttura possa mettersi a capo di una coalizione in qualche modo se ne sono magari andati in giro hanno fatto eventi a destra e a manca esibendo le loro diciamo persone quali guide ottimali leader ottimali senza esercito e senza e senza chiaramente anche un'organizzazione queste persone adesso che comunque hanno capito che loro non potranno esse porsi alla guida di questi processi perché nel frattempo che altri costruivano con più con grande umiltà un esercito loro non costruivano nulla soltanto una soddisfacevano il loro ego personale e in qualche modo andavano alla ricerca di una notorietà senza evidentemente neanche idea di come raggiungere l'obiettivo di come raggiungere il risultato adesso dicono ah bene allora adesso visto che ci hanno fatto questo scherzo che ci fanno votare ora non li non andiamo a votare perché altrimenti siamo complici di questi criminali allora guarda a me sta bene anche questo ragionamento qualora uno lo voglia fare però poi mi deve anche spiegare quale sarà l'epilogo di questa situazione cioè tu dici non andato non andiamo a votare perché non essendo tutti quanti insieme in questa battaglia cioè siccome non ci sono io siccome io non ho potuto guidare il gioco allora buco la palla e me ne vado perché insomma va fatto di tutto per per essere il leader dopodiché nel momento in cui tu non riesci ad essere il leader allora dice non deve esserlo nessun altro e nessun altro si deve poter deve poter offrire questa questa opportunità perché altrimenti è complice di questi criminali e via discorrendo ma il problema è un altro allora se tu dici che noi non ci dobbiamo presentare a me sta pure bene però dimmi come vuoi tirar fuori il paese da questo guaio facendogli perdere anche questa opportunità di essere rappresentato sia pure come riusciremo perché è chiaro che partiamo con nelle peggiori condizioni possibili non è stato possibile unirci ad italexit questo io l'ho detto già più volte perché italexit avrebbe dovuto fare come noi rinunciare al suo simbolo ed entrare in questo in questo contenitore perché era l'unica modalità possibile per potersi presentare salvaguardando la soglia del 3 per cento e nello stesso tempo praticamente rendendo questa coalizione estremamente performante perché unica a coalizione antisistema è chiaro questa coalizione aveva già funzionato a genova genova abbiamo messo crucioli e c'era dentro pure italexit c'era dentro alternativa adesso ognuno invece tira fuori questa cosa questa scusa del nome perché il suo nome ci deve essere vabbè ma se c'è il nome di italexit ci dovrà essere quello del partito comunista di ancora italia eccetera eccetera che facciamo una una coalizione con una con un elenco con una nota della spesa di tutti di tutti i gruppi che ci stanno dentro cioè noi abbiamo rinunciato ripeto la nostra rinuncia noi abbiamo chiesto a tutti quelli che derivano ma l'abbiamo fatto semplicemente perché sarebbe stato assurdo elencare tutte le sigle che appunto potevano confluire dentro dentro questa coalizione avete visto poi oltretutto no se andate sulla sul sito di bio blu c'è il sondaggio e potete guardare che ci sono potete constatare quante sigle ci sono all'interno di quella di quell'elenco sono una marea quindi essendo una marea è chiaro che sarebbe stata una cosa folle che ognuno rivendicasse per sé questa questa cosa qua quindi come procederemo procederemo adesso chiudendo la raccolta chiudendo le liste e poi mettendoci testa basse pancia a terra a raccogliere firme chiaramente nella fase dell'anno più assurda perché è la fase in cui tutti vanno in ferie magari sono fuori dai collegi quindi una follia proprio fatta apposta per impedirci di raggiungere il risultato per impedire a tutte le neoformazioni dopo che questi signori si sono dopo che hanno salvaguardato calenda e errezzi che non hanno chiaramente un seguito non hanno nessuno non hanno base quindi vogliono vogliono praticamente in qualche modo mettere noi nelle condizioni di fallire anche la raccolta delle firme perché magari la gente si trova fuori sede e non riesce non riusciamo a farla firmare nel suo collegio perché purtroppo c'è la necessità di far firmare tutti nel proprio collegio di residenza e quindi sarà questa la maggiore difficoltà per cui io vi chiedo vi faccio questo appello a darci un sostegno cioè a mettervi a disposizione non appena pubblicheremo l'elenco delle località con gli orari in cui saremo presenti nei vari territori vi pregheremmo perché poi tra l'altro hanno anche hackerato una serie di hanno hackerato diversi non a caso evidentemente diversi diverse pagine facebook delle sezioni di ancora italia questo evidentemente per creare confusione per impedirci di diffondere queste informazioni ci stanno mettendo i bastoni tra le ruote in tutto e per tutto quindi quello che vi chiedo è di tenervi sempre collegati con i nostri canali per ricevere tutte le informazioni che occorrono quindi territorio per territorio per poter raccogliere queste benedette firme in tempo utile quindi entro il 14 di agosto io vi saluto e ci vediamo presto, grazie